L'Atalanta si conferma decisamente squadra corsara, per un'ora contiene a fatica gli attacchi di un ottimo Genoa, poi colpisce in contropiede con la coppia sudamericana bianchesi Canigia, non è la prima volta, lo aveva già fatto due settimane fa contro la Sampdoria, ma il rosso blu costa la imbattibilità dopo 23 mesi e forse quando meno lo meritavano. Le squadre si fronteggiano su livelli eccellenti all'insegna del tema dominante della partita, Genoa in avanti con buoni schemi ma scarsa fortuna, Atalanta pronta al contropiede ma ben coperta dietro. Poi il primo episodio chiave, un gol annullato al Genoa, lo aveva segnato Branco per ragioni davvero degne della Moviola, l'albito Felicane distinto con Valida, poi si accorge che il segnaline aveva la bandierina alzata, Signorini spiega. Il segnaline è rimasto con la bandierina alzata, ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che il fuorigioco era precedentemente al gol e quindi sull'azione precedente lui stava segnalando appunto quel fuorigioco. La rincorsa del Genoa diventa martellante nella ripresa ma Ferron fa vedere che un pensierino alla nazionale non sarebbe forse ingiustificato e para proprio tutto. Al quarto d'ora il secondo episodio chiave, Caricola dopo un fallo su Canigia viene espulso per doppia munizione. La difesa del Genoa non fa in tempo a organizzarsi che Bianchezi controllato fino allora dallo stesso Caricola trova l'angolino giusto. L'assalto all'arma bianca del Genoa continua a infrangersi contro Ferron e apre spazi enormi all'Atalanta che spreca lo sprecabile ma in pieno recupero raddoppia con una facile giocata delle schegge sudamericane, Bianchezi e Canigia. Giorgio è vero che l'Atalanta chiederà di giocare tutte le partite esterne al Ferrari, si pare che vi porti bene no? Ma credo porti bene giocare un buon calcio, ho giocato due ottime partite, entrambi le gare abbiamo meritato la vittoria. Ecco quella di oggi è stata un po' diversa da quella contro la Sampdoria secondo lei? Certo, una gara più intensa a livello fisico, un Genoa sicuramente che ci ha preoccupato in qualche frangente, noi siamo stati abili nel pungere nel momento in cui il Genoa produceva il maggior sforzo. Bagnoli e la imbattibilità perduta. Beh, andi fuori di che sia la prima o che sia la ventesima, è un discorso che mi sembrava che forse questa qua era una partita che non si meritava di perdere, si potrebbe perdere ma questa qua forse non era una gara da perdere, ecco da come avevamo giocato. Ferron e la Nazionale. Io aspetto con tutti gli altri, l'importante è fare il proprio dovere bene, poi ci dovesse essere una chiamata benissima. La morale di Branco. Quando si vince tutto è bello, tutti sono bravi, adesso dobbiamo dimostrare di avere un carattere molto forte e andare a Bucca e fare un risultato bellissimo. E avanti settimana per settimana, sfruttando il nostro buon periodo, è un periodo atleticamente in spolvero e vogliamo continuare anche a dare battaglia sulla Coppa Italia tra un paio di giorni.